Eugenia, Gavina, ho scoperto un sacco di cose di cui prima avevo solamente una vaga idea e quindi questo incontro mi ha servito per fissare e capire meglio degli aspetti che prima erano solamente molto teorici per cui l'ho trovato molto interessante e spero di riuscire a metterlo in pratica nel migliore dei modi.